Via Libera in conferenza Stato-Città al riparto dei 111 milioni di euro che la legge di bilancio ha destinato alle città metropolitane. L'intesa è stata sancita sulla base della proposta avanzata dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. A Reggio Calabria andranno 6.303.000 euro, obiettivo garantire un minimo di risorse omogeneo per tutte le città metropolitane. La legge di bilancio 2018 destina così alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario un importo, accogliendo così parzialmente le richieste formulate da Anci, a fronte di uno squilibrio strutturale del comparto valutabile intorno ai 200 milioni annui. Nel 2017 le risorse concesse ammontano 40 milioni di euro. Una prima quota di 12 milioni è stata assegnata su proposta concorde di tutte le CM alla sola CM di Milano, in considerazione delle particolari criticità. Un'iniezione di liquidità per quanto riguarda invece la Metro City Regina che servirà a dare respiro a settori strategici come scuole, strade e dissesto idrogeologico. Abbiamo cercato di trovare una soluzione condivisa che tenga in equilibrio i bilanci della città metropolitana del nostro paese e l'abbiamo presentata al governo, ha comunicato Antonio De Caro, presidente del Lanci e sindaco di Bari, in merito alla ripartizione dei fondi. Bisogna lavorare per risolvere alcune criticità che l'anno scorso hanno usato avanzi di amministrazione ora non più disponibili. Queste in arrivo, a concluso, sono risorse importanti che useremo per la spesa corrente, in particolare per la manutenzione delle strade e delle scuole.